Mister, c'è sicuramente tanta amarezza per questa prima sconfitta in campionato contro una diretta concorrente per il salto di categoria Lenna. Oggi cosa non ha funzionato in casa Acragas? Sì, amarezza, però grande consapevolezza dei propri mezzi. Abbiamo perso una partita contro una squadra al nostro livello. Due gran belle squadre. Secondo me il risultato ci penalizza più di quello che era la mole di gioco espressa dagli avversari. Però è chiaro che nel calcio poi gli episodi fanno una differenza. Sicuramente potevamo fare meglio sulla situazione del gol preso dove non ripristiniamo velocemente il reparto e poi da lì arriva il tiro in porta. Poi lì sul palo non ci puoi fare, sulla rispinta del palo non puoi fare niente, però chiaramente dobbiamo capire e correggere determinati errori. Non è successo nulla, a prescindere da quello che è stato il risultato sicuramente continueremo a lavorare con serenità. Già pensiamo alla prossima, abbiamo un fine dicembre importante e siamo certi di fare bene. Tornando alla gara di oggi, cosa ti è piaciuto? Cosa salvi della tua Acragas? Ho visto una squadra che per i primi 25 minuti ha tenuto il pallino del gioco, poi due situazioni pericolose da parte degli avversari. Poi ho visto una partita equilibrata, dal quasi gollo nostro di Manzur siamo passati un gollo subito. Poi abbiamo creato delle situazioni importanti, non siamo riusciti a determinare, però ti ripeto il calcio è questo. Se non fai gollo poi alla fine rischi di prenderlo.